Il codice iscritto sul frammento dell'aereo ritrovato nell'isola francese della Reunion nell'oceano indiano conferma che si tratta di un Boeing 777. La convalida arriva dal Ministero dei Trasporti malese. Resta da capire se si tratta di quello della Malaysia Airlines scomparso dai radar nella notte tra il 7 e l'8 marzo del 2014. L'esame forense sul detrito, che venerdì sera 31 luglio arriverà a Parigi, comincerà lunedì 3 agosto in Francia. Verso le 9 del mattino sono uscito per cercare una pietra per schiacciare delle spezie e ho visto il detrito dell'aereo. Ho capito che era un pezzo di aereo dalla rotondità. Un po' più là rispetto al luogo, circa un metro dove è stato trovato il pezzo dell'aereo, ho trovato questa bottiglia. Qui c'è scritto Indonesia, Jakarta. Qui alla Reunion non si trovano prodotti del genere, almeno io personalmente non so quanti prodotti indonesiani vi siano alla Reunion. Gli indizi finora raccolti alla Reunion sono un flapperon, una bottiglia di detergente di plastica, una bottiglia d'acqua e una valigia. Ora resta da appurare se tutto ciò appartenga al volo MH370 svanito con 239 passeggeri a bordo.